Si è appassionato di queste operazioni. Sì, mi piace riprendere. Sempre qualcosa si vede. Allora, così non con le braccia. Poi, specialmente i filmati, si fa poco nitili le foto, se la luce è buona. Ah, certo, dipende dalla risoluzione che ha la camera. Mi dispiace che ho lavorato, poi le scenografie in passato non avevo. Io ho questi telefonini, macchine fotografiche, ma mi è rimasta una ripresa di questi lavori. Ah sì, perché c'è una grazia che ha fatto. Con Giuseppe Andorfo. Giuseppe Andorfo. No, scena, per favore. Le città del mondo, per dire, è stato fatto qua. Allora, i costumi, c'è quella.